Art 1000 è una tecnologia brevettata da Cimex per il recupero delle pavimentazioni ammalorate tramite rigenerazione a freddo del conglomerato bituminoso e che riutilizza il 100% del materiale presente in sito senza asportazione di fresato. Art 1000 combina la fresatura dell'asfalto con la riduzione granulometrica e la miscelazione con liquidi rigeneranti. L'attrezzatura si compone infatti di due tamburi, il primo per la fresatura e miscelazione, il secondo per la frantumazione e disgregazione. Presenta inoltre un serbatoio integrato da 100 litri contenente l'additivo rigenerante che viene nebulizzato in fase di fresatura rapportato alla profondità di lavoro e alla velocità di avanzamento della macchina motrice. Art 1000 si prefigge il risanamento del dissesto in maniera veloce ed efficace senza l'interruzione totale della viabilità consentendo l'immediata riapertura al traffico veicolare. Il recupero e la rigenerazione del 100% dei materiali preesistenti in ottica circolare e sostenibile e l'abbattimento dei costi legati all'acquisto e alla movimentazione di nuove materie prime. Grazie per la visione!